Ben tornati su Imperium, rieccoci qua, nell'ultimo episodio comandavamo Cristo Redentore e l'altro coglione Niente, abbiamo fatto un po' di vincite ma poi si sono fatti ammazzare E niente, vedo che qua ci sono subito un po' di obiettivi, iniziamo a leggerli Ok, imponi sempre il dominio sulla regione della Gallia Cisalpina, conquistato di insediamento dei nemici Imponi il dominio su tutta la regione Sconfiggi le regioni romane e i generali inviati alle ricerche di Spartus Parcon non deve morire, sì, Kaston non deve morire, Gannicus non deve morire E anche tutti i campanitenti sti batti dentro il murio, se tutti cadono e vengono conquistati, hai perso Ok Pronto Quindi Sì ma è una merda quindi Ah sì, me l'avevano detto che i primi cosi dieci minuti lagga sta mappa No vabbè ma è ingiocabile Madonna Non si riesce a giocare Porca Madonna Porco Dio Porco Dio Porco Dio Che bello Andiamo a scatti Tre ore dopo Arriveremo Tre ore e mezza dopo Siamo arrivati a sto campamento Tre ore e mezza dopo Puoi avere un computer potente potente da dieci milioni di euro Ma tanto Imperium laggerà sempre Attenzione Forse ci siamo Forse il lag è finito Siiii Cazzo I nostri sforzi non sono stati vani Siamo stati ricompensati Ok Zio porco Minchia che sofferenza Te lo giuro Madonna mia No una sofferenza del genere mai più Andiamo in esplorazione C'è un cazzo qua 35 Ma che cazzo di Cristo Be' tanto noi li bersagliamo Come una mitragliatrice 35 Ma sono infiniti i ragazzi Non riesco a capire Sono infiniti Però anche tu voglio che expi Ho peso il mio arco Ho peso il mio arco Ne scudi ne corazze potranno proteggerti Ne scudi ne corazze potranno proteggerti Solo mille d'oro mi hai dato dopo tutto sto casino Ma va a fan Ehi la ehi la Pronto Noi la ehi la ho trovato un forte E ne ho trovato pure l'altro forte Proviamo a fare un attacchino E vediamo come la va Non tu di là dovete andare Dobbiamo trovare la porta Dai proviamo Che cazzo hanno qui dentro Non c'avete un cazzo Perché sta laggando tutto per niente E una è presa Ovviamente c'hanno tipo L'ira di Cristo Dentro Qua dentro Dove cazzo andate Sì tutto il giro Per miglia e miglia Vero Eh sì Come i coglioni Ecco ormai l'abbiamo conquistato Nooo Devo trovare la porta Porco dio Provata Ho trovato la porta Sì però Volete sfondare Dov'è il foro Ma non c'è nessuno qui dentro Mi avete sfalsato Oh cosa All'85 All'85 Eh Cazzo è morto Ma da dove Ma voi da dove Cazzo siete venuti Dov'è il cancello È qua Dovrebbe essere qua Il mio attacco sarà definitivo Pronto Il mio obiettivo Dov'è il cancello Ti sono temprato In mille Trovato Pronto È morto No Minchia Minchia era l'ottanta Che peccato Bravo Esplorate Esplorate Voi vi è stato dato il compito Di esplorare E volete attaccare Ste mura Bravi Entrate Il mio arco Il mio arco è impaziente Chi è? Ecco Uccidetelo Uccidetelo Sì È caduto E la E la Quanti cazzo Di fortici avete Marunna Marunna San Gennaro Questa missione È un forte Ecco che cos'è Dov'è? Qua Conquistata Ma no Ma qua C'è nessun pure Sotto un altro No Non è possibile No Vai Entrate State sto maledetto foro Mi sono temprato In mille combattimenti Dove cazzo è il foro? In chi ha una porta solo E 30.000 edifici Com'è la porta? Sto misa Sto avrendo L'avevo trovata Prima Allora era Dall'altra parte Vabbè La porta Eccola Dio buono Dio porco Tre ore Per trovare una porta Il mio attacco Sarà definitivo Pronto Ok E anche questo è conquistato Dai Conquistiamo anche sto forte Non ce la faccio più Dov'è la battaglia? Dov'è la battaglia? A livello 12 Che cazzo vuoi fare a livello 12? Arcieri pronti Oh Finalmente è arrivato il bug Che mi fa esplorare Tutta la mappa Ah quindi In sta isola L'ho finita tutto Il consul di Geli è arrivato in Gallia E non si fermerà Fino a quando Non avrà ucciso Sparto Il tuo obiettivo è sconfiggere la sua regione Uccidere il Gallo Per garantire la sua vittoria Ok Finalmente Oh Oh che ucc... Ehi là Ehi là Oh lo qua No 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 Che costo No No Ma porco No no Spartaco Vai via 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 Spartaco Via 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 Tutti contro questo Sì L'ho distrutto Al livello 100 So di coso Di merda Proviamo anche questo assedio Sperando che non abbiano altre unità Ultrapotenti C'è da un cazzo qua Fanculo Dai Su Vediamo che cosa hanno In sto fora La mia mazza sarà l'ultima cosa che vedrà Dov'è la porta? Minchia fino lì Nooo Dai ma siete Allora siete infami Allora Conquistiamo anche questo E non è neanche qua Dove cazzo sarà Quello Andiamo dentro Dentro Andiamo dai Sti germani Fasulli Non c'è nessuno Non c'è nessuno In sti forti Mi prendono per il culo Non c'è nessuno Qui dentro Anzi Sono pure bloccati Dove cazzo è Forse l'ho ucciso Non lo so Forse era quello Al cento Non ne ho Le più palli Da idea Comunque conquistare Con questi Mi sento un po' Fratelli guerrieri I romani sono più numerosi Di noi Ma combattono solo Per denaro Non sanno come rispondere Al nostro coraggio Alla nostra libertà Gli uomini che hanno ucciso Il nostro fratello Cristo Sono venuti A incontrarci qui Abbiamo ucciso tutti E non siamo scappati Come lupi Siamo guerrieri Liberi di combattere Liberi di morire Se necessario Come abbiamo scelto noi Alle nostre condizioni Possiamo far sì Che Roma sanguini Possiamo renderla debole Come ha fatto lei con noi Possiamo afferrare Roma E metterla in ginocchio Indichiamo i nostri fratelli caduti Hai sconfitto Tutte le regioni romani Hai portato a termine Le missioni di Spartacus Grazie a Dio Sia lodato Gesù Cristo Allora Niente Allora Sta mappa È particolarmente Graficamente Molto bella Allora Mi ha fatto bestemmiare Un sacco Per sti cazzo Di sentieri di merda I forti Che avevano solo una porta Porca madonna Che dovevo sempre andare lì Lasciamo per Foreste enormi Detto ciò A parte i primi 10 20 minuti Quello che era Che laggava tutto Porco Dio Beh Non mi è dispiaciuto L'unica cosa Magari mi aspettavo Qualche obiettivo in più Rispetto a conquistare tutto Eccetera A fare magari Come ho fatto Vari obiettivi In avventure Che ho fatto precedentemente Detto ciò Ci vediamo Alla prossima avventura Alla prossima avventura